Il professor Bassetti è uno scienziato e penso che la parola degli scienziati in questo caso vale molto più di ogni altra parola. Noi dobbiamo ascoltare gli scienziati e ascoltare quello che dicono. Certe volte fanno un po' però bisticciano anche tra loro. Io ricordo quando il consulente del ministro Speranza, il professor Walter Ricciardi, diceva il tampone è il lato debole del Green Pass. Per questo si è fatto il Green Pass rafforzato, limitato ai guariti e agli immunizzati. Anch'io credo che nella cabina di regia di giovedì difficilmente potrebbero passare queste misure. Anche perché credo che una parte della maggioranza alzerebbe le barricate e noi dobbiamo fare una campagna a favore... Vedo c'è il dinaglio che fa annuisce. Sì, sicuramente la lega ma penso che anche il ministro Brunetta ha espresso delle perplessità sull'ipotesi dei tamponi per i vaccinati. Anche perché Andrea sono uno straordinario manifesto no-vax. C'è proprio l'argomento dei no-vax, facciamoci i tamponi per non fare il vaccino. Io voglio ricordare peraltro due cose, credo che Bassetti confermerà, mi pare di aver capito e su questo gli esperti concordano, che parliamo di tamponi rapidi. I tamponi rapidi credo in una percentuale dal 30 al 50% danno falsi positivi e falsi negativi. Infatti mi sorprendo anche che l'Italia in questa fase, magari il sottosegretario centinario saprà dirci meglio, ha imposto il tampone per chi rientra in Italia, proprio in un momento in cui i nostri principali competitor per la stagione natalizia scistica sono Francia e Svizzera. Noi mettiamo questo oner burocratico, complichiamo la vita di chi rientra in Italia e anche rispetto ai vaccinati, cioè persone che responsabilmente si sono fatte una, due e tre dosi di vaccino. Voglio dare una notizia.